Oggi e domani il FAI e il Calvario di Domodossola per due giornate dedicate alla bellezza e alla cultura. Sì, decisamente. Da tanto che ci stiamo lavorando è stata una bella preparazione perché vorremmo far vedere tutte le sfaccettature di questo stupendo luogo. Come si può partecipare e sostenere il FAI? Quindi frequentando i luoghi del cuore, frequentando questi posti che apriamo durante l'anno e ogni delegazione fa il suo programma che pubblicizziamo dando un contributo. Noi siamo tutti volontari quindi la raccolta fondi va a sostenere tutto ciò che fa il FAI. Nel VCO sono tanti i luoghi aperti oggi? No, abbiamo scelto solo questo perché è appunto raggruppa, fa da contenitore a parecchi eventi. Ecco, quindi si visiterà il santuario, ci sono i ragazzi del Rosmini, dell'Istituto Rosmini che fanno da Apprendisti Cicerone. I ragazzi narreranno anche la storia di Stoccalper, questo barone un po' controverso ma che unì l'Europa perché commerciava dalle Fiandre alla Spagna. Quindi favorì questo commercio attraverso il Sempione. Grazie a tutti.